con 80 miliardi che succede? che succede? che succede? continui la prego voglio che rimanga agli atti della nostra assemblea in relazione alla protesta del gruppo della Lega Nord di Pocanzi che così come è assodato che i deputati hanno il dovere di usare un linguaggio consono alla dignità di quest'Aula i rappresentanti del governo hanno anch'essi il medesimo dovere di rispettare le opinioni che vengono espresse